Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho detto che sono tante le associazioni che verranno, vi presenteranno sport diversi, dallo scherma al twirling, alle arti marziali, alla ginastica ritmica. Ci saranno, adesso non voglio dimenticare nessuno, quindi varie esibizioni e vari spettacoli e i bambini potranno poi partecipare al progetto Pompieropoli portato avanti dall'associazione dei pompieri e le passeggiate a cavallo invece fornite dalla scuderia di Luigi Runza. Detto questo, salutiamo il web Sabina e cominciamo ad attrarre chi vuol dare i numeri insieme a noi oggi. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati a tutti gli amici del web. Io sono qui, sempre pronta nel mio box interattivo per appunto interagire con voi e dare voce a quelle che sono le vostre idee. Vi ricordo di seguirci soprattutto attraverso Facebook, attraverso il gruppo di cavalli e di intorni. Seguiteci anche in diretta streaming dal canale YouTube Telestar Ippodromo del Mediterraneo, raggiungibile dai siti www.ipomed.it oppure telestarsr.it. Se volete essere aggiornati in tempo reale per quel che riguarda i partenti, i pesi, il programma, il programma delle corse, i comunicati, insomma tutte le news che riguardano l'Ippica siracusana potete farlo attraverso il nostro sito ufficiale www.ipomed.it. Bene, su Cavalli e di Intorni abbiamo pubblicato le classifiche del miglior pronostico del 2016, anche qui richiediamo la grafica a quella generale. Intanto facciamo i complimenti a Diego Gutrale, a Eros Pedà, a Paolo Laura Geratana, a Salvatore Scalora che hanno beccato 4 su 6 partenti. È stata una giornata con pronostici, possiamo dire così, accettabili, con risultati facilmente pronosticabili. Intanto proprio per questo Salvatore Scalora va alla guida della classifica, 25 punti, seguono e non si staccano uno dietro l'altro. Eros, Vito e Antonio Pedà, 24 e 21 punti. Poi si scende con Deborah Tinez, Salvatore Russo, Giorgio Sfadaro e gli altri 25 che state concorrento al concorso. Comunque fornite un contributo anche per capire chi potrebbe vincere le 7 corse in programma invece previste per giorno 29. Quindi vi aspettiamo numerosi come al solito. Allora, stacchiamo un po', ci gettiamo su quelli che sono le interviste degli addetti ai lavori e alcune corse per rivedere i protagonisti che scendono in pista sabato 29. Faccio prima di mandarti un messaggino. Domenico dalla regia, mi dicono se posti il link ancora una volta già fatto su Cavalli ed Intorni in modo tale da poter collegarsi anche in streaming e seguirci sui social per chi non è davanti alla TV. Andiamo con ordine e parliamo della corsa più importante, la quinta, sia per dotazione 12.100 euro per la condizionata, sia perché essendo una condizionata è anche in preparazione, vi dicevo, del criterium imprevisto l'8 di dicembre e i protagonisti sono i due anni. Dovranno affrontare i 1.500 metri in pista piccola. Ebbene, qui puntiamo il dito insieme con Vincenzo Schiavone, il nostro segretario corse che è immaccabile ci presta la sua collaborazione. My Man, distanza al limite per l'allievo di Stefano Postiglione, 60 kg ancora un peso possibile, buone prestazioni fornite a Roma-Dagnano e attesa sulla pista siracusana. Le alternative più probabili sono i due della scuderia Bosco, Fizzi Special che è molto stimata dal proprio team e ancora un Parla dell'Etna che è stato un po' sfortunato nell'ultima prestazione. È un soggetto di buona qualità, di buoni mezzi quindi da tenere in considerazione. Buoni risultati anche per Piuffion, che naturalmente resta uno dei papabili. Le alternative poi finiscono qui, nel senso che poi ci sono dei debuti, vedremo un po' come se la caveranno con tanti punti interrogativi. Questo è perlomeno il punto di vista di Vincenzo. Visto che il titolo avevamo puntato su My Man, giriamo il microfono all'allenatore Stefano Postiglione e facciamoci raccontare la condizione e come lo inserisce all'interno del contesto partenti. I riferimenti di My Man sono sicuramente validi. Adesso corre in questa prova, secondo te, il favorito? Anche che c'è da tutti questi chili, il cavallo, secondo me, è parte da un detto favorito. Certo, c'è da vedere questa Pure Funke, che è molto bene in questo tracciato. La stessa Fitzy Special, anche se è corso me l'ultima volta, ma è da rivedere. Si parla anche bene di questo Perro dell'Etna. Una bella corsa, guarda. In litoria di Dà piace tantissimo il mio. Pure Funke e Fitzy Special. Bene, allora Sabina, incominciamo ad aprire anche con i pronostici sul web. Allora, una bella condizionata per Daniele Puglisi. Possibile match, dice a suo avviso, tra Pure Funke in grande evidenza dopo il rientro. E My Man, ottimo quarto posto in liste da Roma, per cui vale la prima citazione. Fitzy Special, la forma eccellente, dice attenzione soprattutto proprio alla leva di Claudio Impelluso. Per Diego Cutrale, Pure Funke sembrerebbe essere il favorito molto netto. Quindi, a seguire, cita Fitzy Special e My Man. Bene, usiamo un po' di spazio, un po' l'uno e un po' l'altro, nel senso che ci rigettiamo di nuovo con il microfono sugli addetti ai lavori. Andiamo sul numero uno, lo facciamo con Erasmo Lopipero. Ricordo che in questa corsa ci sono due debutti e sono appunto il numero uno di Famous Matty e il numero sette di White Sugar. Subito una bella condizionata per Famous Matty, Erasmo, qual è il tuo parere? Il cavallo debutta, ha dei buoni mezzi, il contesto è duro, però speriamo bene. Chi temi soprattutto? I cavalli sono My Man e Pure Funke, che sono i due. Come a me viene in contesti di fuori molto importanti, pure Funke qua, vince la Maiden e perde la condizionata da Kill Lucky Black. Questi sono i cavalli principali. L'ho capito. Bene, allora, invece ci sentiamo ancora. Giuseppe Cannarella, impegnato su Perla dell'Etna, una dei due soggetti Bosco, che potrebbero dir la propria. Non ha corso male alla prima uscita sul tracciato Perla dell'Etna, un po' sfortunata. Il contesto è un po' tosto, però qual è il tuo parere? Guarda, il cavallo corre benissimo al debutto. Secondo me c'ha delle belle chance di lottare la corsa, perché Pure Funke è la favorita netta di questa corsa, però non so come faccia il terreno pesante. E poi la compagna di scuderia Fizzy Special? My Man non lo so sul pesante, poi la prima volta che affronta il 1.500 a lungo la distanza. E' aggrava dal peso e rientra. Sì, Sabi, proviamo a dare qualche altro numero. Ancora per Luca Trelongo Pure Funke sembrerebbe il soggetto più attenibile. My Man allunga ma por farcela. Fizzy Special mi ha convinto, dice Luca Trelongo. Buona sicuramente per una buona piazza. Una corsa in cui My Man invece può risolverla per Luca Gibilisco. Sicuramente l'alternativa è Pure Funke, ma dice attenzione a Perla dell'Etna che l'ho vista bene alla prima uscita. Bene dunque, riguardando il campo partenti, se gentilmente ce lo ridate dalla regia, possiamo quindi vedere come Famo Smatti e White Sugar sono quindi debuttanti. Non corre il numero 2 dello schieramento Femme Lunaybet. Ancora Fizzy Special, ricordiamo che è un soggetto particolarmente regolare. Scende da Napoli dopo luglio e a settembre ha realizzato due terzi posti. My Man, soggetto di qualità estrema, è uscito da Siracusa a giugno per andare sulle piazze napoletane e romane. Ritorna con bottini raccolti. Perla dell'Etna ha una sola corsa, ma è molto stimata. Pure Funke, abbiamo detto, ha prestazioni riguardevoli scritte sul proprio curriculum. E' proprio per questo che abbiamo scelto di farvi vedere la corsa numero 5, il premio Miami dell'8 di ottobre, dove i due anni erano impegnati in una condizionata sui 1600 metri. Quindi vince in quell'occasione anche un po' rompendo le aspettative Killash Blake. C'era però Pure Funke e Fizzy Special lì pronti per le piazze. Pure Funke in vantaggio all'intersezione delle piste. Al suo esterno si mantiene sempre Big Hero. A centropista Fizzy Special, Killlaki Black, King of Malta lungo la corda. Siamo ai 300 finali con Pure Funke in piena spinta lungo la corda. A largo Killlaki Black. Quindi Big Hero e Fizzy Special, Pure Funke in corda. A centropista Killlaki Black, Pure Funke in corda. Prova a reagire all'affondo di Killlaki Black. Killlaki Black a largo, Pure Funke in corda. Poi Fizzy Special. Si è sentito rubata la corsa perché sono stati gli ultimi 5 metri a decidere il vincitore. Bene, visto anche questo chiudiamo con il pronostico che dà invece Francesco Sirchia che si occupa del giornalino che trovate comunque anche postato all'interno dei social e del web. Dice su questa condizionata per due anni che ha in Pure Funke il soggetto più in vista e quindi da battere. Maimene è reduce da una lista di romana in cui si è piazzato quarto e può essere il rivale. Terzo incomodo è Fizzy Special sostenuta dal suo endurage. E questo è il parere di Francesco Sirchia. Andiamo alla quarta di corsa perché è l'altra corsa con dotazione in Montepremi da 8 e 8. Un handicap discendente sui 1200 metri in pista sabbia per i tre anni e oltre. E qui il soggetto da battere per qualità e mezzi, dice lo stesso Vincenzo Schiavone, è il top weight Andreino. In questo contesto sicuramente può far bene e i suoi 63 kg giustificano proprio il salto di qualità rispetto agli altri. Da verificare in pista però c'è anche Actual che è comunque un soggetto che approda dopo aver fatto bene. Attenzione per le piazze Excel Pride e De Rociadora, in progresso e attesa Larga-Charla. Andiamo proprio su Andreino, ne parliamo con il fantino Giuseppe Cannarella. Rientra da maggio Andreino, se in una buona condizione potrebbe non avere avversari. Il cavallo è in ottima forma, l'avversario più tenibile sicuramente è ben messo a pesa Actual, poi quegli altri potrebbero dire pure la sua. Il cavallo mi piace di più è Larga-Charla, questi tre cavalli. Andiamo sui pronostici del web. Allora, andiamo con Diego Cutrale che vede in Andreino il cavallo da battere. Actual da non sottovalutare al debutto sulla pista siracusana, ma ci ricorda Diego che viene da ottimi risultati ottenuti a Napoli e Roma. Quindi Larga-Charla potrebbe essere la sorpresa. Luca Tralongo dice che Andreino non teme rientro e perizia, lui sicuramente da battere. Actual ha il debutto su pista, ma sicuramente ha dei buoni riferimenti. Dice attendo ancora Larga-Charla, sorpresa per me, perché no? In effetti abbiamo nominato Actual, ha due buoni riferimenti sia a luglio che ad agosto a Napoli. Certo è sempre un rientro, ma ha dimostrato di essere un soggetto di buona qualità. C'è anche Present Logic che ha corso in erba ultimamente, adesso dovrebbe affrontare su questi 1200 metri in pista sabbia. Vedremo adesso cosa ne pensa lo stesso Stefano Postiglione, che peraltro è impegnato anche con De Rociadora. Una delle possibili piazze, De Rociadora si è comportato bene, soprattutto in pista sabbia, sui 1200 metri. Nella terz'ultima prova all'inizio di settembre era seconda. Sentiamo Stefano. Da guardare anche questo Actual, comunque Andrino ha delle condizianze. De Rociadora è molto scarica, su questa distanza potrebbe essere una grande incognita. Prezzo è logico, è un cavallo che l'ultima volta non ha corso proprio, che noi sappiamo tutti cosa è successo. Da rivedere anche lui. Ma comunque per me i favoriti sono Andrino, Hatcher Pride e De Rociadora. Sentiamoci anche l'intervista di Erasmo Lopiparo, l'allenatore però gioca fuori campo. È una bella 8-8 con ottimi soggetti. Andrino a 63, mi piace tantissimo. C'è Actual che al primo, al debutto diciamo in pista, però è un ottimo cavallo e secondo me De Rociadora con 54,5 può dire la sua. Andiamo ancora sul web? Allora, andiamo con Danilo Puglisi che fa il nome ancora di Andreino. Dice non porta a caso i 63 kg, se rientra in condizione non ha sicuramente avversari. Pronti a sfruttare però il minimo intoppo, secondo lo stesso Daniele, sono gli esperti De Rociadora ed Excel Pride. E poi non si sente di escludere proprio Larga Charla. Paolo Gibilisco dice Actual ha perizia buona, ma non so se vale Andreino, nonostante il rientro. Non sottovalutiamo, però dice sulla distanza sul tracciato Excel Pride, è una De Rociadora che è sempre pungente. Allora, guardando il campo partenti che adesso riguardiamo, insomma, di questa quarta corsa, Andreino dall'alto della schermata risulta il favorito. Tante le posizioni che possono poi intercorrere per una piazza, io adesso punterei il dito sul numero 6, Larga Charla. Sapete perché? Perché non solo mi fido molto di Vincenzo Schiavone che quando dice è atteso in progresso, vuol dire che c'è comunque un'attesa anche nell'endourage, nei lavori mattutini effettuati in modo migliore, ma anche perché l'ultima corsa non ha deluso al suo primo ingresso su pista siracusana. Peraltro ha lasciato indietro anche Monister. E allora vi facciamo vedere chi potrebbe contrastare Andreino. Secondo noi è Excel Pride con Larga Charla in progresso. Era la corsa, il premio Lady Dissident del primo di ottobre. Reclamare sui 1200 metri in pista sabbia. Cavalli ai 250 metri finali con in vantaggio Excel Pride all'interno si propone Larga Charla, poi Neon Glitter, See You My Friend, ancora Largo Present Rock. Cavalli nei metri finali con Excel Pride. Excel Pride viene a vincere, Excel Pride su See You My Friend che finisce a bomba, poi Larga Charla a seguire l'Akia Proval. Era lì tra i protagonisti, quindi comunque veramente il gruppo era abbastanza ristretto, non è tanto lontano quindi dal migliorare la propria forma e superarli. Naturalmente noi facciamo i pronostici, non facciamo il tipo per nessuno. Allora, con questo io avrei finito. Se tu hai da aggiungere qualche altro... No, credo che abbiamo parlato ovviamente anche. Sulla quarta cosa, iniziamo dall'inizio con le ore 14.45 che è apertura del convegno di galoppo all'ippodromo di Siracusa. Corsa prima il premio Golfo di Napoli, ancora i due anni impegnati con l'handicap discendente sui 1200 metri della pista piccola. Breve la distanza da affrontare con Alde Basta che ha buoni riferimenti, 61 kg ancora a peso possibile, dice Vincenzo Schiavone. King of Malta è la sorpresa, Cold Kiss è invece il soggetto più regolare. Su questa corsa iniziamo da mister Stefano Postiglione impegnato con l'unico maschietto del gruppo, King of Malta. Per me il favorito della corsa è Cold Kiss, un cavallo che ha dei grandi mezzi. King of Malta è un cavallo che potrebbe tornare su questo tracciato e scende anche un po' di categoria e potrebbe contare tantissimo in questa corsa. Mi piace tantissimo Cold Kiss, King of Malta e Alde Basta. Dal web? Allora, dal web pochi partenti ma in tre a lottare per il successo per Daniele Puglisi, Alde Basta per i buoni riferimenti, King of Malta piace all'ultimo e poi per la regolarità cita Cold Kiss. Gli altri due grosse sorprese, quindi ovviamente parliamo di Lolita Rock e di Cajuri. Luca Tralongo invece dice Alde Basta, sta in grande condizione, batterà anche Cold Kiss e King of Malta nonostante lo abbia convinto all'ultima apparizione sul tracciato. Lolita Rock, impegnato Giuseppe Cannarella, sentiamoci i suoi pronostici. Dopo la bella prestazione al debutto Lolita Rock poi, insomma, non si ripete. Come potrebbe correre in questa periziata? Guarda, la colla è agevolata al peso. Solamente la Red Rock si fa il terreno morbido come sarà domani, ma anche pesante. Però ha corso bene King of Malta e Maiden e poi Cold Kiss fa benissimo questo terreno. Bene, quindi tiene in considerazione anche il terreno, non l'abbiamo detto all'inizio, effettivamente il convegno di sabato sarà condizionato anche dalla pioggia prevista abbondante in queste ore tra oggi pomeriggio, venerdì, ma anche tutta la giornata di sabato, quindi vedremo se effettivamente poi i pronostici saranno un po' anche falsati o comunque da tenere in considerazione anche un tracciato di tipo diverso. Proseguiamo quindi con Luca Tralongo, scusa con Paolo Gibilisco, oggi abbiamo dato il pronostico di Luca Tralongo, dice Paolo, regolare Cold Kiss, il mio primo nome, Alda e Basta e King of Malta, le alternative. Diego Cutrale invece dice che Cold Kiss sembrerebbe la più regolare, con questa compagnia può vingere, gli avversari, ancora una volta, King of Malta e Alde Basta. Campo stringato, dice Francesco Sirchia in questa corsa d'apertura, ma esito affatto scontato, la vittoria dovrebbe passare tra King of Malta, Alde Basta e Cold Kiss che finora hanno mostrato dei buoni mezzi, scelta sottile, leggera preferenza per la femmina di Caruso. Andiamo invece alla seconda corsa in programma, una reclamare su una distanza difficile, quella dei 2300 metri in pista grande per il premio Ischia, tre anni e oltre, dove invece sono cinque al via. Francesco dice, una reclamare sui 2300 metri che potrebbe rilevarsi terreno fertile per Castini, annunciato in progresso, non va trascurato Blue Prince che ha dimostrato di sapersela cavare anche su questa distanza, quindi l'esperto Marfasul è la Prineide. Su questa seconda corsa iniziamo proprio dall'allenatore Campisi che è impegnato con Flash Francis. Sulla carta Flash Francis avrebbe una chance marginale, diciamo che sarebbe una grossa sorpresa in un contesto dove Castini sembra avere tutto in regola per andare al bersaglio. Certo, perché è uscita una reclamare, un dandinello difficile, il cavallo fa la terza corsa, dopodiché vediamo il peso nei discendenti e cercheremo di difenderci in quel tipo di corsa là. Posto quindi che Castini potrebbe essere il favorito, troviamo l'alternativa. Ma l'alternativa a Castini io direi Blue Prince e Marfasul, molto lo dirà il terreno perché mette pioggia e quindi diciamo che Castini sul terreno allendato non dovrebbe sfigurare assolutamente. Bene, Castini atteso anche su un terreno ammorbidito dalle piogge, dal web Sabina? Allora, Castini dovrà vedersela solo con Blue Prince per Luca Tralongo, Marfasul se piove ancora potrebbe trovare non poche difficoltà anche se ci ricorda Luca, la distanza è sicuramente la sua. Daniele Puglisi dice che nel contesto Castini avrebbe tutte le carte regole per centrare questo bersaglio, ottimo anche se il terreno è allentato. Blue Prince alternativa valida ma su un morbido dice attenzione alla prineide e sulla distanza è pericoloso anche Marfasul. Ma questa è una cosa dove, si chiama la seconda giusta? Sì. Non abbiamo nominato Blue Prince che è un soggetto che comunque ha frequentato buoni campi partenti, un handicap principale anche a marzo. Dal web è molto gettonato. È gettonato? Sì, dal web è molto gettonato. Perché è rientrato ed ha fatto subito terzo, quindi insomma, sì Castini però io un'occhiata a Blue Prince la darei. Quindi andiamo avanti, andiamo sulla terza cosa. No, avrei ancora, se sei d'accordo, avrei ancora dei pronostici. Più siamo o meglio è? Certo. Blue Prince e Castini, ancora match per Paolo Gipirisco. La prineide se trova morbido può far bene ma i primi due sono decisamente tosti. Ancora Diego Cutrale con Castini che scende tantissimo di categoria. Con questa compagnia sembrerebbe imbattibile. Blue Prince e Marfasul per la piazza. Tra i due potrebbe inserirsi la prineide. Ok, andiamo alla terza di schermata dove sono ben otto i soggetti al via, un campo partenti quindi più numerosi per un handicap discendente sul miglio in pista sabbia. È il premio Anacapri. Ad affrontare questa periziata che dà 64,5 kg al Bay e a chiudere con il peso invece più invitante è Queen Peppa. Discendente molto aperto, dice Francesco Sirchia, in cui si pone l'attenzione su Queen Peppa che ha forma e freccia in su. Grey Caviar e Timbrali ben si adattano a questo contesto e vanno anteposti ad al Bay, improbabile progresso, e alla novità invece di Bridge Poseidon. Andiamo subito su Honda Rossa. Lo facciamo con l'allenatore Giuseppe Brancato. È esperta del tracciato di pista sabbia e può sfruttare qualche chilo in meno rispetto ai primi della classe. Parliamo di Honda Rossa. Sì, è una cavalla regolare, ha corso bene all'ultima a reclamare, con ottimi soggetti, arrivando terza, perdendo il secondo posto sul palo. Credo che in questo contesto possa fare benissimo. Il cavallo da battere sicuramente è Grey Caviar con 62,5, montato da Cannella. Penso sia lui la prima alternativa a Honda Rossa. E poi come terza alternativa a me piace il numero 7 di Leo Salsim. Un cavallo che se trova lo schema giusto può sicuramente far bene. In effetti Leo Salsim ha un rientro dove non ha fatto benissimo, però con una regolarità già dimostrata nel periodo estivo, così come Alba e d'altronde con tutte le sue vittorie nel mese di maggio, che già pagato il rientro potrebbero sicuramente migliorare. Lui ha citato Grey Caviar e il suo curriculum comunque, dico Giuseppe, non brilla nelle due ultime performance, quindi comunque dovrà sicuramente impegnarsi di più. Ci sono anche dei ritorni in sabbia, come quelli appunto di Timbreley e Beck Fuser, potrebbero appunto migliorare in queste condizioni. Andiamo a sentirci il web. Allora, Albei sicuramente ha militato in dei buoni contesti, lo valuta il migliore Luca Tralongo. Bene nello schema Grey Caviar dice di fare attenzione a Queen Peppa in grande forma, ma tutti qui possono giocarsi almeno una chance. Anche per Daniele Puglisi è una corsa di non facile soluzione. Albei paga il peso e la qualità rispetto agli avversari, ma deve ritrovare la forma migliore. Stesso discorso per Grey Caviar, Timbreley è alterna ma può giocarsi una grossa chance. Preferisce però Daniele Puglisi puntare sulla forma il pesino di Queen Peppa e da valutare dice la novità Bridge Poseidon. Infatti stavo dicendo, prova Siracusa anche il numero 6 dello schieramento, dopo essere stato prima a Roma, poi a Tagliacozzo, dove comunque nel mese di maggio è chiuso con delle belle prestazioni. Adesso prova Siracusa, vedremo come si trova sul tracciato. E intanto Queen Peppa, a parte la sua proprio regolarità su questo tipo di tracciato, ha fatto bene. Allora diamo il microfono direttamente a Campisi, vediamo come ce la presenta. E qui 55 kg per una Queen Peppa che sta correndo bene potrebbero essere un quid in più. Diciamo che la Cavalina sta dimostrando di sapersi difendere in tutti i terreni. Con questo peso qui veramente non l'abbiamo mai portato, abbiamo portato un po' di meno. Affrontiamo gli anziani, sembrerebbe una corsa alla nostra portata. All'arrivo io credo che ci sia sicuramente. Poi vediamo il terreno anche sulla sabbia, se piove tanto o piove poco. E quindi anche questo per noi è un'ingognita perché io non ci ho mai corso e quindi non so come si comporterà in questo tipo di terreno. Anche se lei ha dimostrato ultimamente di farli tutti, sabbia, pesante, leggero, tutto. Quindi valutiamo un po' il contesto, chi spicca di più? Guardi, il Cavallo di Calità è All Bay, il pull di vincitore qui a Siracusa. Però 64,5 kg con questo terreno qua mi sembrano un tantinello troppo. Io direi come alternativa Leo Salsimi che la sabbia la fa e non porta tanto peso. Poi mi piace anche Black Fisher che sulla sabbia ci ha vinto, se non mi sbaglio, quando è venuta subito da Pisa. Quindi siamo con i tre anni. E poi anche Onda Rossa sulla sabbia potrebbe andare bene. Bene, in effetti ha Al Bay due chili e mezzo in più rispetto all'ultima vittoria effettuata su Siracusa dove portava 62 kg. Il peso comunque non lo agevola. Qui in Peppa sembra il netto progresso, il parere di Diego Cutrale. Onda Rossa sta correndo bene e potrebbe piazzarsi. Mi piace anche Black Fisher che sulla sabbia ha già dimostrato delle buone cose. Così dice Diego Cutrale. Invece Paolo Gibilisco vede un Grecavier che con cannella in sella può trovare il successo. Timbrali corre bene, per lui è la prima alternativa. Onda Rossa con perizia favorevole ma preferisce Queen Peppa. Andiamo alla sesta allora. Il premio Capri, un reclamare sul miglio in pista grande per i tre anni oltre dove sono sette i soggetti al via. Coupe de Talon reduce da un bel successo e in questa reclamare parte col favore del pronostico, dice Francesco Sirchia. Ancora in back to zero allunga la distanza ma piace ugualmente. Vento del Sahara rientra e se già al meglio ha una chance, quindi see you my friends. Su questa corsa ci sentiamo subito Erasmo Lopì, però l'allenatore è impegnato con il numero sette Vento del Sahara. Buoni mezzi per Vento del Sahara che però insomma deve affrontare un rientro, lo pagherà? Speriamo di no, però il cavallo rientra, ci sono due cavalli che sono in un'ottima condizione come Toupe de Talon e in back to zero. Vengono due vittorie, quindi sarà una corsa dura. Se non pagherà il rientro lotterà la corsa con loro. Allora, Coupe de Talon effettivamente dopo il rientro del primo di ottobre ha praticamente vinto sui 1600 metri in pista grande. Se ci vediamo la schermata è il primo nome effettivamente citato. In back to zero dopo la vittoria invece di settembre ha un secondo e una terza piazza sui 2100 e sui 1100. ricordiamo che adesso si corre sui 1600, quindi ritorna ad allungare, chissà se si troverà meglio o peggio. E poi c'è naturalmente rientro regolare, quindi insomma che potrebbe far la differenza Vento del Sahara. Il punto interrogativo di questa corsa è anche Oppercat, un soggetto che viene da Roma, militato anche a Napoli, che rientra dopo tantissimo tempo, quindi si dovrà insomma vedere come si troverà e in quale forma viene presentato. Ci sentiamo qualcuno del web, Sabi, prima delle interviste fuori campo? Allora, Daniele Puglisi dice che se non si trattasse di un rientro avrebbe detto innanzitutto Vento del Sahara, ma la vede comunque sul podio. Detto questo la sua prima scelta è Coupe de Talon, la seconda in back to see hero, molto bene nel periodo. E ancora See You My Friend con grossa fiducia a Salvo Basile. Poi continuiamo, su un terreno buono, Luca Tralonga avrebbe scelto Vento del Sahara, secondo me non avrebbe avuto a Belsari, quindi in queste condizioni si affida a Coupe de Talon e a in back to zero. Attenzione anche al numero 3, Kingston, Sassafras, buonanotte, mi sono avversa, Sassafras, ok? Dove praticamente dopo Napoli ha già provato il testato, il terreno siracusano, l'ha fatto però sul doppio chilometro in pista Sabi. Adesso invece prova la pista grande, quindi chissà se può giovare al numero 3 dello schieramento. invece è rientrato a Siracusa, ha fatto due corse a Siracusa, Salteras che ancora naturalmente deve tutto dimostrare. Sentiamoci alcune voci fuori campo, partiamo con l'allenatore, Giuseppe Brancato. È una reclamare ben riuscita, con ottimi soggetti, sicuramente il numero 1, Coupe de Talon, parte con i miei favori sul pronostico, perché l'ultima volta ha vinto bene in questa categoria. Come alternative a me piace il numero 3 di Kingston, Sassafras, che può sicuramente far bene, in questo contesto, visto che scende di categoria. E poi come terza alternativa il numero 7 di Vento del Sahara, che rientra, ma è un cavallo che conosciamo tutti e in questa categoria sicuramente non può correre. Ancora un'altra intervista, un fuori campo, ancora l'allenatore Campisi. Reclamare che impegna gli anziani, chi potrebbe scrivere questo premio Capri? Ma anche questa è uscita una bella corsa impegnativa, con dei discreti cavalli, plurivincitori qui a Siracusa, come Coupe de Talon, Invecchieto Suiru. Come sorpresa mettiamo Siuma i Frendi, che ha debuttato benissimo facendo seconda, e poi diciamo si è quasi riconfermato a reclamare con un buon quarto posto. Dopo il, diciamo che Coupe de Talon scende di categoria, e quindi è il cavallo da battere per Diego Cutrale. See you my friend, Vento del Sahara, le alternative. La sorpresa, ci dice, potrebbe arrivare da Invectus Hero, che allunga notevolmente la distanza. Paolo Gibilisco dice che dopo il recente successo Coupe de Talon nel contesto può bissare. Invectus Hero affronta la più distanza, ma ha i mezzi percorre da protagonista. Quindi, Siuma i Frendi. Bene, andiamo alla settima l'ora di corsa, perché dal prossimo convegno le corse fino a dicembre saranno sette, anche perché si stanno recuperando quelle perse il giorno 25 settembre, causa brutto tempo. Handicap discendente sul miglio in pista grande per i tre anni è il premio Faraglioni. Ci sono anche qui sette soggetti al via, vediamo cosa dice Francesco Sirche su questa settima corsa. ce la presenta così. Gremab sta correndo bene con continuità, gli manca solo il successo per coronare i suoi progressi. Lovely Heart è carica, ma in grande condizione, quindi Happy and Fast, che si rivede dopo un paio di prove modeste e poi slippery people. Dal web? Allora, dal web, Diego Cutrale, Gremab viene da un buon secondo posto e può vincere questa corsa. Lovely Heart è happy and fast, nomina per una piazza. Daniele Gibilisco, alternativa, scusate, alterna, ma nel contesto è il suo primo nome, Lovely Heart. Gremab sta attraversando un grande periodo di forma e ci sta alla grande. Rientra, slippery people, cavallo di buoni mezzi, sorpresa, Happy and Fast. Sentiamoci un'intervista, quella di Giuseppe Cannarella su Gremab. Positivo, regolare, Gremab. Nel contesto può emergere? Guarda, è il tre anni che si piazza con l'Anziani, il tuo giorno è il secondo. Oggi sono tre anni, io non vedo un avversario dalla sua portata, quindi metterei lui come detto favorito. Il Rust Attack farà bene questo terreno. Slippery people viene da una stagione a Napoli non brillante, però è sempre un buon tre anni. Bene, dal web ancora... Luca Tralongo dice che Gremab è pronto per trovare finalmente il meritato e tanto atteso successo, carica ma in grande condizione il Lovely Heart e provo con Martin Blond, discreta rientro. Paolo Gibilisco dice Gremab su tutti e tutti per una piazza. Bene, ancora un'altra intervista sulla settima corsa, impegnato con il numero uno Stefano Postiglione, Slippery people, vediamo cosa ci ripete. Rientra Slippery people, cavallo sicuramente di buoni mezzi, come lo inserisci in questo contesto e con questi 64 kg e mezzo? Beh, abbiamo 64 kg e mezzo, un cavallo che è grande di mezzi, ha corso malissimo a Napoli, quindi non ha passato una bella stagione. Potrebbe rientrare bene, ma il cavallo secondo me è Gremab che è sempre al palo e ovviamente anche questo Lovely Heart che ultimamente sta facendo bene. Bene dunque, allora ricapitolando, sabato 7 già le prove in programma all'ippodromo del Mediterraneo, tra cui vi dicevo questa condizionata riservata ai due anni che già si stanno preparando quindi ad affrontare poi le cose più importanti, la listed dell'8 di dicembre, il criterium in particolare sui 1400 metri in pista grande. Poi giorno 1, domenica partenti, giorno 1 si ritorna all'ippodromo per un pomeriggio dedicato al grande caloppo con due handicap principali, con una città per i bambini, evento legato quindi alle esibizioni di alcuni sport attraverso i bimbi, ma questi bimbi avranno la possibilità poi di usufruire sia del progetto Pompieropoli sia poi della passeggiata a cavallo e quindi avere un contatto diretto con il tanto amato all'interno di un ippodromo, atleta, appunto, cavallo. Andiamo invece con un'altra grafica per chiudere, che è quella di un Halloween mostruosamente rilassante, lunedì 31 ottobre all'interno dell'ippodromo del Mediterraneo e precisamente in una delle sue strutture, l'Eureka Palace, nel centro benessere che ha organizzato per le ore 21 in poi con un'apertura straordinaria una serata per godersi la spa con DJ e possibilità appunto di scegliere tra diversi pacchetti. Ve la volevamo proporre perché è all'interno della struttura dell'ippodromo del Mediterraneo e quindi è un'offerta di un servizio del nostro impianto ippico. Sabina, salutiamo tutti? Sì, sì, salutiamo tutti, vi ringrazio ancora per essere qui con noi, per essere stati qui con noi, sempre numerosi, sempre più appassionati e io vi aspetto per la prossima puntata. Bene, allora la prossima puntata vi ricordiamo che si terrà lunedì, ci vediamo prestissimo perché lunedì alle 11.30 saremo ancora qui con voi perché dobbiamo andare ad analizzare il convegno del primo di novembre, quindi puntata speciale di Cavalli e dintorni sui handicap principali e sull'evento. Grazie e arrivederci.